Buongiorno professor Aldo Perrone, è una persona che si interessa moltissimo dell'aspetto culturale, lo vogliamo dire di che cosa? Eh sì, devo dire che questo mio interesse dura da oltre 50 anni con l'associazione culturale Gruppo Taranto. Ecco, un suo giudizio appunto su questa manifestazione internazionale della nostra città che ha bisogno di raccontarsi al mondo attraverso le sue specificità tantissime archeologiche e storiche. Devo dire che questo convegno è veramente altissimo, di qualità tale che Taranto davvero sentiva il bisogno di avere una manifestazione del genere. Bisogna ringraziare assolutamente la dottoressa Davide che ha organizzato questo convegno e lo porta avanti in una maniera esemplare. Taranto ha bisogno di questi eventi internazionali perché la qualità di questa città deve essere riscoperta e riconosciuta. Ecco, il mondo imparerà a conoscere Taranto secondo il tuo parere di esperto insomma attraverso questa narrazione? Taranto ha bisogno di riscoprire il passato, ce n'è una parte molto alta, parlo del passato recente, cioè quello degli ultimi 40, 50, 60 anni, 30 anni, ci sono state cose altissime e ho piacere di vedere che finalmente con questa manifestazione Taranto ritorna a dei fastidi che veramente meritava di avere. Speriamo che questa realtà continua. Grazie, grazie professore. A lei.